Sono inocente, sono circondato bene. Mi raccomando non dire sfondoni perché noi ti puniamo poi. Ingegner Chiappetta, SI Audio, perché stiamo qua? Siamo qui per la seconda tappa del tour dei Pink Floyd, che si svolge appunto a Napoli presso la SI Audio, il cui titolare è Ingegner Chiappetta, progettista delle amplificazioni alieno, che dopo vi facciamo vedere, ma che stanno suonando qui dietro, ne è appunto il titolare, nonché amico di vecchia data, sia mio che di Giancarlo. Abbiamo fatto due conti che forse sono 40 anni che ci conosciamo. Secondo me sì, perché non ero ancora sposato e adesso a luglio faccio 40 anni di matrimonio. Perfetto, quindi sono 40 anni e più. Ci troviamo di fronte al più grande ingegnere italiano che progetta elettronica, secondo me. Io ci toglierei italiano e estenderei l'apprezzamento a scala planetaria. È bellissimo, mi piace, finisce così. Cosa vi è raschierato in questa circostanza? Ci puoi alzare, tolgo la sedia e così poi lo facciamo vedere. I nostri falla va! I diffusori, come abbiamo detto, sono le medesime di Roma. Sì. Per quanto riguarda le amplificazioni, sono un alieno che è nascente, speriamo che diventi anche un astro oltre che nascente, e sono i due finali da 500 watt, a loro volta pilotati dal preamplificatore, che pure questo è in versione prototipale, nel senso che questi hanno un'estetica sostanzialmente definita. Questo qui ancora è in preparazione, la nuova estetica, e questi sarebbero i prodotti che si affiancano dall'alto all'attuale produzione. Ok. Poi, per quanto riguarda la sorgente, sostanzialmente abbiamo un'eccezionale esoterica che è il K01XS. Esatto. O in XD. Quindi oggi faremo sentire la versione CD, la versione in superaudio CD con il lettore magnetar, e il giradischi con un Brinkman, se vogliono. Perfetto, esattamente. Tutte e tre i formati, poi chiaramente ci sarà una tensione, vedrà chi vincerà. Perfetto. Una domanda, Fulvio, ma chi volesse sentire ed acquistare questi prodotti in Italia, come può fare? Perché sono bellissimi, a noi sono piaciuti moltissimo, molto più a me che sono un rocchettaro, vi assicuro che mi hanno schiacciato sulla sedia, veramente. Benissimo, sono contentissimo di questo. Allora, questi prodotti sono in distribuzione in Italia attraverso acustica applicata. Benissimo. E acustica applicata ovviamente ha dei punti vendita. Per giunta una situazione simile a questa potrà essere ascoltata in un'altra tappa del tour. Ah, perfetto. Che è quella di Lucca. Che si svolgerà, mi sembra, a novembre, se non ricordo male. Fino ottobre. Fino ottobre. Fino ottobre, proprio l'ultimo weekend di ottobre. Perfetto. Comunque, allora, aggiungo una cosa. Dai pomeriggi del Vomeno di 40 anni fa, dove Fulvio mi portava e ascoltavamo insieme le prime elettroniche. Avvicinatevi. Sì, avviciniamoci. A oggi devo dire che, mamma mia, c'è un... Sì, anche se il filo conduttore è sempre il medesimo. Cioè, allora io credevo nella valvola e nella possibilità di far esprimere la valvola pilotando direttamente il diffusore. Sì. Meno diretto tra la valvola e il diffusore. Perché più o meno? Perché in realtà la valvola non supporterebbe la corrente che richiede il diffusore e quindi in aiuto ci vanno dei transistor che però vengono pilotati dalla valvola stessa. Insomma, in buona sostanza, giusto per spiegare il perché l'essenza dell'amplificazione alieno e del fatto che, non dovrei dirlo ma la ritengo abbastanza rivoluzionaria, il classico ibrido delega le valvole per l'amplificazione in tensione, i transistor per l'amplificazione in corrente e quindi il retrogusto del suono che si ha è valvolare per certi versi. Ma è pur sempre transistorizzato per quanto riguarda la corrente. Qui invece la corrente è quella della valvola ma amplificata e supportata dai transistor. Ma è quella originariamente. Quindi il transistor la amplifica con un circuito di grande linearità. Quindi si può dire che l'impronta sonica della valvola resta... Infatti, tant'è che resta che noi facciamo due linee di prodotto, uno con la 300B e un altro con la 2A3 e sono dei prodotti che per quanto abbiano un'elettronica, la sezione transistorizzata è esattamente uguale, hanno una timbrica completamente diversa, perché ognuno segue la filosofia del tubo che è deputato al pilotaggio e che è quello che determina il suono. Per chi non fosse addentro di queste questioni relative alle valvole, diciamo pure che un tipico amplificatore con le 300B normalmente è accreditato per una potenza di... Massimo una decina di watt se è una sola 300B, una quindicina, una ventina se sono due e con le 2A3 che noi pure utilizziamo si ha una potenza che va dai 3W e mezzo per la singola fino a un massimo di 7-8W per la doppia. Laddove con la magia di alieno diventano rispettivamente... Qui abbiamo 2A3 per trenale che in totale erogano 500W. Ecco, quindi capite che il salto è decisamente violento a dispetto del fatto che però timbricamente il suono resta coerente con quello di un valvolare. Allora, trovo tutto assolutamente perfetto, meno una cosa, non si possono usare l'estate. Assolutamente no, perché allora per ottenere linearità dal sistema di amplificazione in corrente dei transistor devo lavorare rigorosamente in classe A. Ergo questi cosi assorbono 300W e quindi una stufa di 300W ognuno. Benissimo. E poi ci stanno le valvole che fanno altrettanto, alla fine non si possono usare l'estate, però possono essere utili per fare sollevamento pesi. Perfetto. Perché ognuno di questi rasende i 100 kg, quindi siamo a posto. Perfetto, quindi siamo a posto. E quindi... Oh, a questo punto, prima di concludere, io direi che potremmo tentare di estorcere una promessa a Fulvio... Sì. ...di concederci il piacere di poter provare nella nostra sala prove uno di questi apparecchi. Allora, Fulvio risponde che non sta facendo un piacere, ma stai ricevendo una grossa cortesia e un piacere che soprattutto è un onore per lui. Sì, però già che si deve portare sulle scatole, dici che fa presto Giulio a dire così, perché poi so io che mi devo incollare i 100 kg. Non sarà così, perché siccome Fulvio è una persona molto generosa, gli offre pure il facchino che ve li porta sopra. Allora siamo a posto. Allora è finito, scusa. Ma siamo a Napoli, ma stiamo scherzando. Siamo a Napoli, è bene. Allora, salutiamo i nostri follower. Certamente, grazie. Noi ci accingiamo a questo piacevole ascolto che durerà oggi e domani. Quando voi vedete il video il tutto sarà terminato, ma avete appunto la chance di andare a ascoltare, se siete in zona, la puntata ulteriore che si svolgerà dalle parti di Lucca. O comunque tutte le altre. O tutte le altre che trovate nel sito del... Che non hanno alieno, ma sono interessantissime. Assolutamente. Grazie e a presto. Ciao. Di nuovo grazie. Ciao.